Lino Banfi, pseudonimo di Pasquale Zagaria, è un attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano. Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici, lavorando con alcuni registi particolarmente rilevanti quali Luciano Salce, Nanni Loi, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci. Lino Banfi, che ha un profilo Instagram con 152.000 follower, è un'icona della commedia italiana, amatissimo dai giovani. Tanto che un suo ril ha fatto ben 42 milioni di visualizzazioni. Non mancano le collaborazioni in clip divertenti, con i tiktoker e gli youtuber più in voga del momento. Avere un nuovo nipotino per casa è sicuramente una gioia ulteriore e un sprune in più per rimanere giovane. Lino Banfi, che ha un profilo Instagram con 152.000 follower, è un'icona della commedia italiana, amatissimo dai giovani. Tanto che un suo ril ha fatto ben 42 milioni di visualizzazioni. Non mancano le collaborazioni in clip divertenti, con i tiktoker e gli youtuber più in voga del momento. Avere un nuovo nipotino per casa è sicuramente una gioia ulteriore e un sprune in più per rimanere giovane. Come si legge su Diva e Donna però le cose sono molto cambiate. Lino Banfi sarà bisnonno. L'attore infatti ha accolto con estrema gioia l'annuncio che la stessa Virginia ha reso pubblico attraverso il suo profilo Instagram. Che gioia ce l'ho fatta. Ho sentito il battito. Il settimanale femminile. Diretto da Angelo Ascoli. Ne fa un articolo a tutto tondo in cui vengono rivelati i dettagli della lieta novella. Come si legge su Diva e Donna però le cose sono molto cambiate. Lino Banfi sarà bisnonno. L'attore infatti ha accolto con estrema gioia l'annuncio che la stessa Virginia ha reso pubblico attraverso il suo profilo Instagram. Che gioia ce l'ho fatta. Ho sentito il battito. Il settimanale femminile. Diretto da Angelo Ascoli. Ne fa un articolo a tutto tondo in cui vengono rivelati i dettagli della lieta novella.